Il team di esperti dell'OMS in trasferta a Wuhan, Cina centrale, per indagare sull'origine del virus, hanno finalmente iniziato la loro inchiesta. Nelle immagini di France Press escono da un ospedale dove sono stati trattati i primi casi di Covid-19. Usciti il 28 gennaio da 14 giorni di isolamento, i componenti del team hanno discusso con gli scienziati cinesi prima di fare visita in un ospedale della città dove è iniziata la pandemia a fine 2019. Prima visita estremamente importante, ha tweetato Peter Daszak, membro della delegazione. Siamo nell'ospedale che ha curato alcuni dei primi casi conosciuti di Covid-19. Abbiamo incontrato i medici e il personale che ha lavorato, con un'aperta discussione sui dettagli del loro lavoro. L'OMS ha confermato che i 10 esperti andranno all'ormai celebre istituto di virologia di Wuhan, equipaggiato con il primo laboratorio di biosicurezza a livello 4 del paese, dove si studia il coronavirus. A inizio pandemia l'istituto è stato oggetto di teorie infondate, ma rilanciate dall'amministrazione dell'ex presidente americano Donald Trump, secondo cui il virus sarebbe da qui uscito per poi contaminare il pianeta. Durante il loro soggiorno di qualche settimana il team si recherà anche al mercato del pesce di Wuhan, primo focolaio dell'epidemia al mondo, dove venivano venduti anche animali vivi, ormai chiuso dal gennaio 2020.